E bella a tutti ragazzi, benvenuti qui dal vostro Velo, oggi siamo sempre qui con il nostro fantastico Cagliari E che dire, oggi ci troviamo qui, secondi in classifica, a meno 6 da una Lazio che è partita Veramente per lo scudetto, perché non si ferma più I club sono pronti a scoprire i loro avversari nei 16 anni di Europa League Ma cosa c'entra? Noi mica siamo in Europa League, non capito quella immagine messa lì completamente a caso Tra l'altro la prossima avversaria dopo il Genoa sarà proprio la Lazio, quindi contro il Genoa dovremo fare un po' di turnover Poi entriamo nel mese di gennaio, dove dobbiamo vedere se scadono quelli che sono i prestiti di Rugani e Nengolan E l'unica cosa che vorrei fare è prendere l'ovato, così da chiudere il reparto difensivo in maniera poi ufficiale Detto questo, andrei a giocare contro il Genoa, sistemo un po' la formazione, ma noi ci vediamo diretti in campo Ed eccoci qua, tutto pronto, comincia Cagliari Genoa Tra l'altro loro hanno la nostra stessa formazione, ho fatto un turnover pesantissimo Per arrivare poi contro la Lazio nel migliore dei modi E' vero che c'era tanto tempo prima della partita con la prima della classifica Però per evitare guai, soprattutto infortuni quelli strani, ho tenuto solo Rensk e Timber in difesa e Jo Pedro Il resto sono cambiati tutti, attenzione infatti subito qua in avanti, sempre proprio col capitano Che non riesce però a tenerla, recupera il Genoa Rovella anche, potrebbe essere un'idea per il centro campo Simeone recupera, Zappa, Rogue, Jo Pedro, l'appoggio per Cerri, alla prima partita da titolare Cerri, Cerri, prova qualcosa Cerri l'avete per il Jo Pedro, c'è Cerri! Però si supera Marchetti, penso sia, non penso sia Perin quello Calcio d'angolo dentro, fuori Tra l'altro, miglior record in casa, non abbiamo mai perso in casa, eh Fino ad ora, ovviamente Ora che l'ho detto arriverà la prima sconfitta col Genoa Però, un dato importante Tra l'altro ho messo, ho cambiato anche il portiere, eh Cioè proprio tutti li abbiamo cambiati Messo Vicario che comunque, raga, non sembra male come portiere Sinceramente, è diventato qua Zappa Dopo però un gran pallone, Zappa, Zappa Salito Zappa, Zappa Siamo praticamente 5 contro 2 Zappa, Zappa, l'appoggio per Cerri Ovviamente ce lo cagliamo, ma Zello capisce tutto Ademir, che la controlla Prova ad accentrarsi, dall'altro lato vede Zappa Il pallone è bellissimo, però di un soffio non arriva all'esterno destro Attenzione qua, mamma mia lì Ho visto il brivido del rigore Si è fatto anche male, forse Scamacca Però noi ripartiamo Il giocatore ancora a terra Forse l'albitro dovrebbe bloccare il gioco Noi qua ci fermiamo L'appoggio per Cerri Che la mette per il gioco Oh, Pedro Miracolo però di Marchetti Si rialza intanto l'attaccante Però infortunato E niente, dalla bandierina Noi mai una gioia Finisce qui 0-0 questo primo tempo Abbastanza deludente È vero che stiamo giocando con tutte le riserve Però Diciamo che loro si stanno difendendo bene Noi non siamo stati così pericolosi come Come speravo E Speriamo in questo secondo tempo di Darci una sveglia Attenzione qua Subito il Genoa Mamma mia che Beh Va bene Ok Recuperò Stranissimo Ma l'abbiamo recuperata Adesso ripartiamo con Zappa 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 Le cavalcate di Zappa Zappa Si ferma Cross dietro Simeone L'appoggio di testa Per Demir Che Viene bloccato Corone di testa Questa qua Mamma mia Mari Non ti metterò mai più in campo Corra da Gio Pedro Dai che di là c'è Demir un po' libero Demir 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 Bella la finta Demir Demir E niente Incredibile incrocio Giocata veramente bellissima Dell'esterno Però Tanta tanta sfortuna Piazza è fresco Pericolo 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 Mamma mia Vicario Il miracolo qua Oddio Simeone Oddio Simeone La giocata Vai Simeone E niente Però Aveva provato la gran giocata Dai che ci siamo ancora noi qua Con Cherry Dai che il rimpallo in qualche modo ci ha favorito Cherry 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 E niente Rogue Simeone E niente E niente Mi sa che Perdiamo Porca vacca Mamma mia che Che brivido Il novantesimo Palo del Genua È 0 a 0 Manteniamo quella che è l'imbattibilità in casa Però risultato veramente Scadente Molta sfortuna da parte nostra Per carità Ma loro C'è stato l'ultimo brivido Il primo tiro in porta è arrivato al novantesimo Ed è stato un palo Beh Diciamo che Fortuna e sfortuna Si sono Eguagliate in questa partita Quindi non mi posso lamentare Arriviamo adesso alla partita Praticamente Più Importante Più attesa Contro La Lazio Che ci permetterà di capire Che squadra ha questa Lazio Per essere Padrone Indiscusso del Campionato E niente 39 Vediamo se vince ancora La Lazio E vince ancora Cioè Lazio è veramente Incontenibile Mi viene da dire Tutto pronto Squadra titolari L'hanno recuperato tutti Ci vediamo in campo contro la Lazio Il partitone Vediamo se riusciremo noi A fermarlo Bisogna dare attento a Tyson Che ha fatto 11 gol Bah Vediamo un po' Eccolo qua Il capo cannoniere di questo torneo Con 11 gol Tyson Con la 7 Esterno Sinistro La squadra Lazio Quindi per un esterno Farà già 11 gol Viene un po' male Però Vediamo un po' Comincia adesso Lazio Cagliari Lazio che ha la nostra stessa Formazione C'è nel senso Nel nostro stesso modulo E Boh Non lo so La squadretta c'è Perché i giocatorini ci sono Però Vediamo un po' Se non riusciamo a fare il miracolo Col L'uomo più forte Di tutti i tempi I turbe I turbe I turbe Subito i turbe Mamma mia Che giocatore ragazzi Che giocatore Aia 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 Bravo Rensk Ripartiamo Nainggolan Nainggolan C'è i turbe Lasciato Completamente libero Dai che era due lento E 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 stracoscia ci mette la mano E non riusciamo a crossare in mezzo L'altro E lento E lento Come parlo Calcio d'angolo Nainggolan A cercare Pato C'è lì Timber Che prova a spizzicare Non trova però Balotelli Che prova a tenerla in campo Ma non ci riesce Rugani Recupera un pallone Fondamentale Al centro campo Prova a spizzicare Per Balotelli Oddio Si è incartato Qual difensore Balotelli 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 Super Mario Balotelli Firma il vantaggio Al ventitresimo Minuto su Un errore Gravissimo Del difensore Non ho letto Chi fosse Penso Radu Così a caso Ne tiro uno Vediamo un po' Se lo inquadra Comunque Il 26 Quindi Sarà il 26 Qua Balotelli Non sbaglia Con la fucilata Ci porta In vantaggio Incredibile Ma vero Cagliari in vantaggio Attenzione qua Correa Tyson 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 Chiude tutto Rugani Comunque L'inizio di stagione Per lui è veramente Devastante Qua prova ad allargare Ma finisce Qui il primo tempo Che ci vede in vantaggio Abbiamo giocato Veramente bene Un Lazio Che non ha creato nulla In questo Primo tempo Non un'occasione Che sembrava Abbastanza pericolosa Ma siamo riusciti subito Ad arcinarli Eh Speriamo In questo secondo tempo Di poter continuare Su questa scia Chiudilo Madonna Tutti sti giochetti Di gambe E molo falcio Correa Caicedo Gol Mamma mia Sbagliato Orca vacca Graziati da Un errore di Correa Che sfiora Il palo Mamma mia Primo brivido Di questo secondo tempo Pato Gio Pedro Per Balotelli Che fa un ottimo movimento Palo Incredibile Però c'è il Della Vega Della Vega Chiude forse i conti Esulta come Balotelli Tra l'altro A sfregio Visto che lui ha preso il palo Anzi no Però si fa congratulare con lui E i tifosi del Cagliari Veramente Esplodono di gioia Qua Balotelli Incredibile Sto palo Che sassata Qua Stracoscia non può nulla Fortunati anche sul rimpallo 2-0 Cagliari Cade la Lazio Per ora Non si sa mai Meglio non parlare troppo Presto Erca miseria Erca miseria Ecco infatti Meglio non parlare troppo presto Madonna che busta Che gli ha fatto A Timber Ragazzi Correa fortissimo Cioè veramente Il migliore di questa Lazio Lì Perdiamo un brutto pallone Erca vacca Che busta gli ha fatto Scusate Non lo faccio mai Ma Cioè Vabbè Qua ho perso un pallone stupito Con Nainggolan Però voglio rivedere La giocata di Correa Cioè guarda Cioè Timber Proprio Porca vacca Non entrare più in campo E niente Ovviamente Il gol ci sta Subirlo Adesso ci chiudiamo Come non so che cosa E cerchiamo di non fare Una cavolata Al perdere questo Vantaggio Se ne qua Bella la palla Il ninja Il ninja Il ninja La chiude così Lazio troppo scoperta E 3 a 1 Il ninja Nainggolan Era la sua partita Ha giocato veramente bene Tutti i 90 minuti E ora Corona una grande prestazione Con il gol Quindi Ottimo Molto felice per lui Soprattutto Si gode di più Perché lui era la Roma Sai derby Vecchi ricordi E bravo ninja 3 a 1 Cagliari Finisce qui Una bellissima partita Da parte nostra Una partita che Abbiamo saputo gestire Non abbiamo sentito Troppa pressione Contro una Lazio Che comunque ricordiamo È prima A più 6 7 Quanti punti sono E noi l'abbiamo gestita In maniera perfetta Anzi L'abbiamo Non dico umiliati Però Il gol è arrivato Su una grandissima Cioè Oddio grandissima Abbiamo fatto una cazzata noi Però Correa La busta lì È da rivedere Rivedere Povero Timber Però Abbiamo vinto Quindi Sti cazzi Forza Cagliari Ibe vuole andare via 17 anni 57 Diciamo che Si è un po' Bloccata La crescita Di questo Baby fenomeno Qua abbiamo anche Kotlov Che lui si è un po' Bloccato Mentre McCard Qua Spinge Spinge Abbastanza Però Ibe Direi che Sì Possiamo Lasciarlo andare Ci dispiace Perché Avevano una grande Prospettiva Ma non siamo riusciti A coltivarla Forse come si deve Detto questo Arriviamo comunque In In gran forma Contro Il Milan Direi di Velocizzare un po' Le cose Perché entriamo Perché entriamo anche Nel Calciomercato Calciomercato Che Non sarà Chissà che Non faremo Grandi rivoluzioni Prendo solo Lovato Se riesco Se vedo che I prestiti Scadono Più che altro Perché voglio capire Se Naingolan E Rougani Ci salutano Ok Allora Sottile Ok E' tornato Sottile Scaduto Anche Marin Ok Anche Calabresi Ok Anche Duncan Ok Volevo informarla Traboni E' andato Perfetto Ok Quindi sono rimasti Sia Rougani Che Naingolan Però adesso Secondo me Vanno fatti Degli acquisti Secondo me Per allungare La rosa Perché Siamo un po' corti Siamo tanto corti E' vero che siamo coperti Praticamente sotto ogni ruolo Tranne il terzino destro A quanto vedo Cioè il terzino destro Si buonanotte L'esterno Destro Solito che manca Qua Della Vega Io l'avevo trasformato Possibile che Non è ancora riuscito a farlo Quindi andiamo a sistemare Prima questa cosa Allora Della Vega Dove sei? Dove sei? Dove sei? Della Vega Della Vega Della Vega AD 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 Eccolo qua Piano di crescita Più due tra l'altro Per lui Quindi ottimo Direi Esterno destro Ci mette quattro settimane Miglioriamolo Così siamo contenti Qua abbiamo fatto Perfetto E Esterni destri Beh C'è sempre lì Il solito discorso Il solito problema Di Prenderne uno Di esperienza O no Allora Qua c'è Lovato Che comincerei a Valutare Come difensore Perché sennò Poi cresce troppo Poi ho trovato questo Cabra Cabrais Non so se si legga così Alla brasiliana Ma non penso Che è un fenomeno Tanto non si priveranno mai Di questo giocatore Quindi Non corriamo il rischio Di Marco A quanto pare Ancora non è possibile Acquistarlo Ed è un peccato Poi abbiamo questo barco Che non sarebbe male Acquistarlo 21 anni Sembra molto interessante E quindi Proverei Ormai Buendì è andato È proprio andato Al bar Quindi le trattative Che vorrei provare Sono Un tentativo Per questo barco Vediamo se riusciamo Ad abbassare Quelle che sono Le pretese Dando magari Qualche Contropartita È vero che Adesso che Ci penso Non ne abbiamo Però Magari Se riusciamo Ad abbassare La richiesta Tipo 6 milioni Non sarebbe Una brutta trattativa Loro però Vogliono Pato No Mi dispiace Non posso Non posso Perché Perché no Dai ragazzi Non posso Proviamo 7 e 2 7 e 7 Eh 7 e 7 6 e 7 7 e 6 Prima non era 7 e 2 Prendiamo per il culo 6 e mezzo 7 e 6 Allora Ti dico 6 e 9 Ci devono pensare No 7 e 6 Allora 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 Facciamo 7 7 e 6 Niente Hanno fatto La loro trattativa Noi per ora La rifiutiamo Perché voglio capire Se Però mi sa che lui Costa molto di più Perché è anche molto più forte Di Marco Di Marco Niente Quindi 7 e 6 E qua abbiamo Anche qui Sarà un 6 7 milioni Per Per Lovato Sta già salendo Molto di prezzo Quindi direi di Seguire quelle che erano Le nostre decisioni I nostri accordi Andare a acquistare Lovato Perché Poi lo perderemo Lugani Quindi Dobbiamo valutare molto Questa Questa situazione E' vero che forse Servirebbe più Qualcosa di più D'esperienza Però Lovato Secondo me E' l'uomo giusto L'uomo che fa per noi Proviamo I 5 milioni Che aveva andato A Inizio mercato Niente Tutti pazzi per Pato Ma Pato Rimane con noi Abbiamo 5 milioni 8 addirittura Cacchio Sono alzati parecchio Eh Il mercato di gennaio E' sempre un po' caro Abbiamo 6 8 e 2 No dai Non cominciamo Non cominciamo A fare ste porcate 7 e 8 Stanno scendendo Però Ancora Dovete scendere ancora un po' 7 Mi sembra un'offerta equa 7 milioni Per Lovato Direi che Va fatto Va fatto perché Perché si E' qua proviamo A dargli un 18 Ok Va fatto perché Poi perderemo Rugani Dovremmo investire su un Centrocampista Per Per Nainggolan Quindi Una trattativa che Ci può stare al 100% India Certo Vengo ad allenare L'India Tre volte E Chat col giocatore Abbiamo Demir Che Direi Di Non far giocare Cioè magari Lo facciamo entrare Milan che è sesto Questa è la squadra Pato 78 Attenzione al Pato che sta tornando Ad altissimi livelli E niente Ci vediamo in campo Col Milan Tra l'altro i due ex Balotelli e Pato Vediamo cosa ci sapranno Regalare Tutto pronto Entrano le squadre In campo Siamo Alla Sardegna Arena Direi proprio di sì Comincia a Cagliari Milan Loro vanno Ibra Si rincontrano La triade Balotelli Pato Ibra Chissà che effetto Favano questi due giocatori Sfidare una squadra Che li ha praticamente Li ha praticamente Lanciati Nel calcio che conta Perché da loro Sono sbocciati In poche parole Però vediamo un po' Balotelli più all'Inter Forse che al Milan Però al Milan Diciamo che ha coronato Grandi prestazioni Detto questo Attenzione perché qua Subito Rebic Comincia a spingere Però qua Nandez Recupera un gran pallone Jo Pedro Jo Pedro Grande La finta su Ternandeschi Però è molto più veloce Di lui Dobbiamo fermarci un attimo E partire da Pato L'uomo più richiesto Di questo calciomercato Fino ad ora Qua vede una bellissima Palla per Balotelli 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 Chiuso Arriva ancora Jo Pedro Che prova a metterla Per Balotelli Però palla Completamente sbagliata Recupera il Milan Rebic Brutto fallo Lì di De La Vega De Hernandez Hernandez Ancora Rebic Bella quella palavra che si Occhio Occhio al Milan Occhio saltato Gol Gol del Milan Chi è? Non l'ho visto in faccia Forse c'è Janoglu Vorrei dire una cazzata E non la dico Milan in vantaggio Arrivista che È molto probabile Che arriverà la prima sconfitta In casa Contro Questo Milan Perché Ci stanno sparando Veramente Male Stanno facendo tutto loro Ci stanno a pigliare Appallonate Ci stanno a pigliare Appallonate Stanno giocando Solo loro 40 minuti di Dominio assoluto Di questo Milan Non riusciamo A reagire In nessun modo Infatti Ancora loro con Ibra Chiude Però bene Rugani Ma finisce qui Il primo tempo Di gioco Che vede in vantaggio Il Milan per 1-0 Ve l'ho detto Partita dominata da loro Non abbiamo fatto Nulla Proprio nulla E speriamo in questo Secondo tempo Di darci una sveglia Attenzione qua Rebic 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 Chiude bene Però Rensk Prova a suonare La carica Ripartire Addirittura decide Di partire lui Rensk Rensk Si spinge Molto in avanti Adesso decide Di appoggiarla dietro Però male Male Malissimo Oggi non ci siamo Proprio con la testa Attenzione Forse al rinvio Della vita di Cragno Per Pato Ti prego Pato Ti prego Pato 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 E niente da fare Niente da fare Niente Che recupero qua Del ninja Pato La mette per Show Pedro Show Pedro Show Pedro L'appoggio per i turbe Addosso però a Calabria Nandez 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 Oh mio Dio Nandez Cosa ha tirato fuori Cosa ha tirato fuori Nandez Mamma mia Ma che cosa ha fatto Capolavoro Porca vacca Ma rivediamolo Da lì Da fermo Oggettivamente Guarda che girello Mamma mia Traversa gol Non può nulla Donna Rumma Che gol di Nandez Inaspettatissimo Immeritatissimo Ma è 1-1 Cagliari Attenzione Che si Milan Tutti in avanti Vuole Assolutamente Una vittoria Mi sa che Può trovarla qua Con Ibra Ma Cragno Copre la porta Però concede Il calcio d'angolo 85 Sul Cronometro Una partita che ha visto Dominare una squadra sola Ecco la squadra non siamo noi Ma Nainggolan La salva sulla linea Ancora una volta Ci salviamo così Timber spazza su questo pallone Più lontano che può Però c'è niente Ancora Milan Che chiude sempre In avanti Qua però Timber recupera un altro pallone Però rischia qualcosa Ma riesce a lanciare i turbe Dai che forse arriva la beffa per il Milan I turbe I turbe I turbe I turbe I turbe Prova un cross Dentro sul secondo pad L'ho perpato Mi stava incartando con le parole Madonna Rumma Fa il miracolo Fa il miracolo Donna Rumma E finisce qui la partita 1-1 Immeritato Quindi va benissimo così Perché Ci hanno distrutto Veramente In maniera incredibile Ma Ci sta Va bene questo pareggio Sono comunque molto soddisfatto Il gol di Nandez È un capolavoro Potevamo vincerlo all'ultimo Madonna Rumma Si è superato E Sono contento comunque Adesso vediamo di chiudere questo episodio Accogliendo il nuovo acquisto Lovato Vediamo se Ha accettato tutto 14-5 anni Giocatore importante Quindi non vuole essere neanche cruciale E accettiamo E Lovato Chiude Questo mercato di Riparazione Un acquisto Telefonato Da non so quanto E Niente Molto soddisfatto Perché è un acquisto Che Chiude completamente La rosa sotto tutti i ruoli Adesso Direi di portare su Se abbiamo Soldi Perché non Non penso Abbiamo 33.000 Siamo Un po' poveri Adesso vediamo qua Di portarci almeno Ok Su Così Magari mi porto su Uno di loro due Che è tesa Comunque Perché Tra i due Non so Oggettivamente Chi prendere Cioè prendere Kotlov Solo perché È 62 E perché Può fare anche L'esterno destro Che oggettivamente È l'urlo Che tra virgolette Un po' ci manca Però Bologna Bologna Parma Torino Vediamo se riusciamo A incastrarci Pure il benevento Così da chiudere Anche il mese di gennaio Per poi passare A febbraio E chiuderli Ogni episodio Facciamo un mese In poche parole Ancora il Milan Ah quindi il Milan Era l'ultima No Ah ma si è cambiato L'ordine Vabbè Comunque Detto questo Che dire Se il video vi fosse piaciuto Lasciate un mi piace Un commento Dal vostro velo È tutto E noi ci vediamo Un prossimo video